buongiorno oggi mi trovo a lugano e quello che vi sto per mostrare è un bellissimo bilocale questa è l'entrata mi trovo a lugano a due passi dal centro entriamo nell'appartamento quello che vedete davanti a voi è il salotto e qui sulla mia sinistra abbiamo la bellissima cucina e sulla mia destra subito all'entrata abbiamo un locale utilizzabile come guardaroba subito all'entrata per riporre scarpe giacche e quant'altro salendo un piccolo scalino accediamo a quella che è la sala con cucina a vista con una grande penisola la cucina è completa da forno k vetro ceramica lavandino lavastoviglie grande frigorifero e grande congelatore a tre cassetti questa è la porta di entrata quello è il locale che vi ho fatto vedere guardaroba e accanto abbiamo il bagno bagno completo di box doccia bello spazioso lavandino vc e bidet e anche il bagno molto spazioso torniamo in sala il salotto all'uscita diretta su un balcone privato che attualmente è aperto ma verrà chiuso in modo da garantire la privacy di chi verrà a vivere qui questo appartamento dispone dell'aria condizionata e da qui accediamo alla camera da letto anche questa bella spaziosa e anche da qua possiamo uscire sul balcone questo è un bilocale situato al pian terreno in uno stabile con un totale di quattro piani per un totale di sei appartamenti io vi invito a chiamarci per venirlo a vedere dal vivo ti affitto